Sì, sono io! Rovinati, siamo rovinati. Ci toccherà vendere anche i quadri adesso. Domani avrà a tenersi il plebiscito undicesimo nel locale municipio in Borgo Malanotte. La verità è che questa terra fa gola a tutti. E noi gese occupati buoni, occupati cattivi. Gese solo chi vuol comandare e chi deve obbedire. Siamo arrivati al voto. Un voto che creerà una nuova Italia. Il leone alato di San Marco, senza più gli artigli, il sedo venta fragile. Come un leon de vetro. Manca poco. Dobbiamo fare il possibile per convincere anche gli ultimi indecisi. La nostra terra non sarà data a nessuno. Nella famiglia dei Biasin comandano o il vecchio Alvise o Jacopo. I figli non contano nulla. Guardi quel canaletto. C'è dipinta tutta la magnificenza di Venezia. Quella del carnevale, delle feste in maschera. Una Venezia scomparsa purtroppo. Io non so più dove andare a prendere i skate per pagare, lo capisci? Per favore, basta. Una famiglia sbasciata. Non incontro gli altri. Non incontro gli altri.